Filippo, hai già un panchino e sfida con loro? No, solo il dolari. Penso, in realtà, ci siamo noi. Ci siamo a Maglio. Guarda che bellezza. Bravi ragazzi. Ma perché che le ha disegnate queste parole? È il nostro mio amico che fa le magliette. È anche un grafico lui. Sono disegnate bene. Sì, è anche un grafico, le ha disegnate bene. Ma sono bellissime, che eleganti. È bello perché tutto è aranciato. E poi con l'aranciato è normale, dice così, sono... Le ha disegnate bene? Molto. Quanto l'ha fatto penare, povero Filippo, che non arrivavano. È un molto ritardo nel nord. È normale che è andato tutto. Sì. C'è la foto di Laura con Fabio De Luigi. C'era Fabio De Luigi la gianata. Da morire dal ridere. Stai simpatico, l'ha abbracciato? L'ha abbracciato, ma lui è gentilissimo, è simpaticissimo. Dopo l'intervallo ti faccio vedere la foto. Comentino. Con Gianmarco, marrone. Ma il campo è bellissimo. Questo è un piacere. Si chiama Città di Sesto. Vai ragazzi. Fede, si chiama Città di Sesto. Vai, buono, vai, vai. Spada molto competitiva. Mi ricordo un quarto, spada, quando era gioco. Bravo! Bravo, Fede. Mi ricordo un quarto, spada. La posizione è in senso così, come c'è più bassi. La posizione è in senso così, come c'è più bassi, come c'è più bassi, come c'è più bassi, come c'è più bassi, come c'è più bassi. Via, via, ok, giocano. Anche tutti e cinque insieme. La posizione è in senso così, come c'è più bassi. La posizione è in senso così, come c'è più bassi, come c'è più bassi, come c'è più bassi, come c'è più bassi, come c'è più bassi. E' dall'alto l'associazione. Mamma mia, guarda, non dire così. Sì, certo, va bene, non è musata, va bene, non è un'altra. Oh, lei mi smette, vorrei dire. Vai, vai. Stiamo organizzando la parte del calcetto femminile, forse ce la facciamo una volta nella vita. C'è più bassi, come c'è più bassi, come c'è più bassi. C'è più bassi, come c'è più bassi, come c'è più bassi. C'è più bassi, come c'è più bassi, come c'è più bassi. E' un bel gioco! E' un bel gioco! Guarda la linea! Guarda la linea! Uno, uno, uno che va! Troppe c***o! Un po' troppo! Un po' troppo! Questo è bello! Non importa! Un po' troppo! Un po' troppo! Camala! Gigi Camala! Gigi Camala! Non vampis, c***o! Non vampis, c***o! Il primo, il primo, vale! E' un po' troppo! E' un po' troppo! Dai gole, dai gole! Un po' troppo! Un po' troppo! E' un po' troppo! Se non ce la fa più! Te l'ho detto! Bravo! Albitro! Bravo! No, no, no! Guarda! Posso! In questo campo non riesco a capire chi è qui! Come spaziato! Per questo stiamo giocando molto rostante! E' un po' troppo esagerato! Il primo St. давайте abbiamo LI! Il primo St. Il primo St. Un primo St. Un primo St. Un primo St. Un primo St. Grazie, bravi! Sì, guarda, guarda! No? È giù questo! No? È bello questo! No? Sì, sì, guarda, zera, fai bene, fai già qui! No, non devono fare... Dai Marco! No? Bravo! 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 Ho, che tempo fra pino è l'e 중에 mia, hai quattro spettato! Quattro Scatio!